Sono lieto che Rebecca Harms si presenta alle primarie delle elezioni europee. Sono soprattutto lieto perché conosco bene Rebecca Harms come persona molto competente, una persona che è sempre ben preparata, che è anche più o meno l'esperta del Parlamento europeo per l'energia nucleare. Uno dei proponenti più preparati contro l'energia nucleare è proprio Rebecca. Lei è anche veramente europea, non soltanto del mondo tedesco, è una che è in contatto soprattutto con l'est, ovest, dappertutto, e che sa portare avanti con energia le sue domande, le sue questioni ecosociali.